Con la firma ufficiale nella sala consigliare del comune di Pescara, la Banca Europea per gli investimenti ha messo il suggello al finanziamento con 35 milioni di euro alla transizione verde della città d'Annunziana. È stata la vicepresidente Gelsomina Vigliotti a dare l'imprimatur l'articolato progetto di strategia climatica per il periodo 2021-2025 finalizzato a promuovere l'economia circolare, l'efficienza energetica e la gestione dei rifiuti solidi. I fondi della Bay confluiscono in un vasto e dettagliato piano operativo da oltre 58 milioni di euro contribuendo così a finanziare il nuovo impianto a digestione anaerobica dei rifiuti, il rinnovamento di impianti di riciclaggio esistenti e l'efficientamento energetico di edifici pubblici e scolastici. Il dialogo con il comune di Pescara è iniziato da tempo, ci siamo incontrati su questi progetti di alto valore per noi perché riguardano soprattutto la sostenibilità ambientale e la questione che, come dicevo, sono per la Banca Europea degli investimenti degli obiettivi molto importanti. attraverso questi progetti infatti noi ci aspettiamo un impatto molto importante sulla sostenibilità ambientale attraverso questo nuovo progetto di smaltimento dei rifiuti che ci aspettiamo produca anche della nuova energia rinnovabile come il biometano e anche attraverso l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Un obiettivo estremamente importante e mai come ora in questo momento in cui ci rendiamo conto dove oltre l'obiettivo ambientale c'è anche un problema come dire di indipendenza energetica e in minore esigenza noi avremo di energia e tutta l'economia ne potrà beneficiare. La BEI per la prima volta fa un finanziamento a un comune di medie dimensioni in Italia. Con questi fondi andremo a fare investimenti per circa 58 milioni di euro nella nostra città. Gli investimenti riguarderanno 55 edifici pubblici che saranno riqualificati nel senso del miglioramento energetico. Parliamo di scuole, di impianti sportivi, di edifici pubblici comunali in generale e in più ci saranno interventi importanti legati al ciclo dei rifiuti a cominciare dal biodigestore che ci permetterà non soltanto di risparmiare cifre elevatissime perché il costo della raccolta dello smaltimento si potrà abbattere anche del 30% del nostro territorio ma in più ci permetterà di produrre energia pulita, 4 milioni di tonnellate di biometano, quindi un processo totalmente virtuoso a zero impatto ambientale con produzione di energia. Credo che sia il salto di qualità che questa città deve fare e ha dimostrato di saper fare e di poter fare.